Musica Sabato 4 aprile, buongiorno, sono le 7 del mattino, apriamo questa nuova puntata di Omnibus con la lettura dei giornali. Allora che cosa c'è da dire? Che la curva dell'epidemia è piatta, il cosiddetto plateau l'avete sentito, ne hanno parlato anche altre persone, questo è quanto sostengono i virologi, gli scienziati, gli studiosi, però dicono anche che bisogna stare attenti, bisogna mantenere sempre alta la guardia, non bisogna allentare queste misure che ci sono state consigliate, non ordinate ma ci sono state sicuramente consigliate e che dobbiamo tutti rispettare. Purtroppo lo vedremo tra un istante da alcune fotografie che riportano i giornali, alcuni anche in prima pagina, ci sono molte città dove sembra che questi divieti in realtà non vengano rispettati, c'è molta gente in giro tra l'altro che non rispetta il cosiddetto distanziamento sociale. Non ci dimentichiamo che anche ieri, seppure stiamo guardando con una certa fiducia in fondo al tunnel, a quello che ormai definiamo un tunnel perché vediamo una lucina, in fondo ci sono stati 766 e decessi, un numero davvero importante e davvero preoccupante, quindi bisogna mantenere comunque alta la guardia. E poi per quanto riguarda le misure economiche bisogna guardare anche alla ripresa perché è ovviamente il Paese ma non soltanto noi, dobbiamo riprenderci, dobbiamo ricominciare ad avere fiducia nella nostra economia e ripartire. Allora mentre si discute all'interno dell'Europa il Governo si prepara anche a varare alcune misure che possano consentire una ripresa. Allora vediamo su questo ci sono delle interviste importanti da quella del Presidente di Confindustria Boccia ad altri imprenditori e lo andremo a vedere tra un attimo. E poi che cosa succede nell'arresto del mondo? La Spagna purtroppo si aggiudica il primato per quanto riguarda l'Europa per numero di contagi, però vanno male anche le cose negli Stati Uniti che potrebbe nelle prossime ore dichiarare il cosiddetto lockdown, cioè la chiusura proprio del territorio americano. E poi ieri a sorpresa qualcuno di voi certamente l'avrà visto, il Papa Bergoglio si è rivolto a tutti quanti dicendo che è il caso anche in queste ore di donare una carezza a chi sta soffrendo. Allora insomma sono molte le cose che troviamo sui giornali, cominciamo e partiamo come sempre dal Corriere della Sera. Il titolo d'apertura, lo vedete, troppi fuori casa, più controlli e quasi 120 mila contagi più guariti. Il caso Borrelli, il capo della protezione civile, sulle restrizioni fino a maggio. Ieri aveva detto, dice che difficilmente si potrà pensare al 25 aprile o al primo maggio. Poi si è corretto dicendo che naturalmente quello che conta è quanto ha disposto il governo, cioè la chiusura al momento fino al 13 aprile e il mantenimento proprio di quelle misure. Riaperture, cabina di regia, governo regione. E poi il Veneto, mascherine obbligatorie nei supermercati, tamponi rapidi anche in auto. E vedete queste foto, tanta gente per le strade di Napoli a fare la spesa o a passeggiare. E anche a Roma però non vanno meglio le cose, con i mercati rionali aperti, molti cittadini sono usciti in strada. Sembra, è normale, lo capiamo perfettamente, ma è incredibile in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, nonostante gli appelli. Poi l'altra notizia che vi avevo segnalato, il Pontifice ieri si è rivolto proprio in un messaggio video, il gesto del Papa che rema con noi nella resistenza contro il male. Allora, così il Corriere della Sera, vediamo il titolo di apertura di Repubblica, uscire solo con la mascherina, esperti divisi, riapertura non prima di metà maggio. Il governo ora ci ripensa, anche Milano ha fame, viaggio con i volontari che portano cibo ai nuovi poveri della città più ricca. E poi questa anestesista, questa foto, non siamo eroi ma neppure kamikaze. E poi quest'altro riferimento è un'intervista, un nostro piano Marshall o milioni di disoccupati, centeno questo dell'Eurogruppo. Vediamo la stampa, la stampa torna all'altra notizia, quella del Corriere della Sera, la fotonotizia. Poi vedete, incredibile, anche in questo caso torniamo a Napoli, c'è un'intervista, anzi la vediamo poi tra qualche istante proprio al sindaco di Napoli. Già 15 mila multe ai furbetti delle passeggiate. E poi la notizia di economia, più in basso, di taglio centrale, 200 miliardi per le imprese. Accordo con Conte, il piano del Ministero del Tesoro è di usare Sace per le garanzie sui crediti. Intervista boccia, come dicevo, Presidente di Confindustria, se non arrivano subito i soldi, a rischio gli stipendi. Vediamo allora le sole 24 ore, rimborsi sbloccati ai debitori del fisco e poi cassa integrazione, una babele qui di spalle, lo vedete, di 20 causali e 14 strumenti per averla. E poi le imprese riaprire dove c'è sicurezza, così il sole 24 ore. Vediamo il messaggero, troppo in giro, vedete, si torna nuovamente al fatto che c'è troppa gente davvero in giro per le strade. Troppo in giro, stretta a Pasqua, di vieti violati in molte città, in 48 ore sanzionate, 5 mila persone, piano di blocchi stradali del Viminale. Borrelli, primo maggio a casa, poi la frenata verso la fase 2 con l'obbligo delle mascherine. Così il messaggero, vediamo il fatto quotidiano. Fiera Fontana è senza medici e lo scopre ora. Bertolaso ospita, la Lombardia offre 53 letti al Piemonte di Cirio, ma in cambio di 50 anestesisti. Così il fatto quotidiano. Vediamo il giornale. Norme shock, soldi solo, sesse antifascista, razzismo alla rovescio, Parma, buone spese distribuiti soltanto con autocertificazione, lampi rilancia il 25 aprile e cantate Bella Ciao del Balconi. Vi segnalo questa intervista, l'andremo poi a leggere a Urbano Cairo, che è anche l'editore del Corriere della Sera e della Sette, e cosa fare ora a semplificare tutto. Vedremo che gli imprenditori sono concordi tutti quanti nella stessa analisi, ma lo vedremo nel dettaglio tra qualche istante. Adesso diamo la linea alla regia perché sono le 7 e 6 minuti, ci rivediamo tra poco e riprendiamo insieme la lettura dei giornali. Vi aspettiamo. Le 7 e 9 minuti, ben ritrovati. Allora, vediamo la prima pagina di Avvenire, il titolo importante, centrale, le incognite della fase 2, Conte alle regioni, no agli scontri, il PD chiede chiarezza, Francia e Germania sia al MES senza vincoli, Scettica resta l'Italia. A proposito di MES, vedete sotto c'è la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che scrive proprio ad Avvenire, l'Unione Europea solidale con un piano marcia. Lo vedete, caro direttore, le ultime settimane hanno sconvolto il nostro mondo. Sì, è vero, l'Europa è stata presa in contropiede da un amico sconosciuto, da una crisi senza precedenti, ma l'Europa adesso si è rialzata ed è unita. E continua poi a pagina 3. Vi leggo anche il sommario del titolo principale. Stabili, dati dei contagi e delle vittime. Borrelli forse in casa fino al 16 maggio, ma poi rettifica. La Cina torna a chiudere, il Governo studia i prossimi passi e nuovi decreti, 3 miliardi ai poveri. Così il giornale Avvenire, vediamo il manifesto. Curva Italia, situazione stazionaria, altre centinaia di vittime e migliaia di contagi. Il Ministero della Salute ora ha più tamponi. E poi fate i bonus, questo è il titolo sulla fotonotizia, 3 miliardi di euro per 3 milioni di persone. L'annuncio della Ministra del Lavoro per gli esclusi dalla CIG, dalla Cassa Integrazione e dai bonus delle partite IVA, ma per la grave crisi sociale non basta un reddito di emergenza. Conte a Bruxelles, soluzioni inadeguate, ma riemerge il MES. Così il manifesto, vediamo Libero come titolo. Piano segreto del Premiere, il partito di Conte è pronto. Già a febbraio l'Avvocato del Popolo aveva raggruppato fedelissimi disponibili a sostenerlo. Col virus ha aumentato le comparsate e il suo gradimento sui social continua a crescere così libero. Vediamo il mattino quotidiano di Napoli. Troppi in giro, divieti più lunghi, regole violate in città, il Viminale ora blocchi più severi, allarme dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Così il virus riparte. Borrelli primo maggio a casa, obbligo di mascherine anche nella fase 2. La discesa ancora non c'è, ma il Sud resiste. Il giorno, giravolta OMS, usate la mascherina, ora gli scienziati temono che il virus possa resistere nell'aria. Contagi, si abbassa ancora l'indice di trasmissione, il rapporto sugli animali domestici. Non trasmettono il morbo, ma possono essere infettati dai loro padroni. E poi, ecco, ci piace vedere anche, leggere e commentare insieme a voi questa fotonotizia. La meglio gioventù, lezioni online, prof sorpresi della risposta degli studenti dell'emergenza, mostrano impegno e grande responsabilità. E noi ne siamo tutti quanti orgogliosi e fieri di questo. Il tempo facciamo noi, abbandonati dallo Stato. I negozianti romani non lasciano solo le persone in difficoltà, spesa offerta ai poveri. Vediamo la verità. La Puglia blocca gli apparecchi antivirus destinati al Veneto. Contagi e morti non calano, aumentano le multe a chi esce. E poi, leggiamo anche una prima pagina della Gazzetta dello Sport, Obiettivo Giovane Inter. E allora, queste sono le prime pagine. Andiamo a vedere però le pagine interne. Cominciamo dal Corriere della Sera, che ospita un'intervista al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, l'avete visto nelle foto che abbiamo trovato sulle prime pagine, molta gente che così va in giro violando le misure, il distanziamento sociale. E allora che cosa dice? Certe vie qui sono strette, bastano dieci persone, sembra chissà che folla. Dice allora, sindaco, in rete girano immagini del centro di Napoli non proprio affollato, ma certo con troppa gente in strada. E come risponde? Dice niente, assolutamente niente, i napoletani stanno rispettando con serietà i diviti e le regole. Dice quindi, a suo parere, la città sta reggendo? Dice ma assolutamente sì, siamo persone responsabili e sappiamo che dobbiamo difenderci dal virus e da una sanità che se scoppiasse un'emergenza come in Lombardia non avrebbe le strutture per affrontarla. Siamo partiti da 334 posti in terapia intensiva in tutta la regione e in aprile arriveremo a 500, ma dovremmo averne mille in più. Quindi direi che anche i napoletani, con il loro comportamento, stanno collaborando a evitare il collasso degli ospedali. Così appunto è il sindaco De Magistris. E poi che cosa diciamo qui? Adesso vediamo quest'altra intervista a Brusaferro. Qui andiamo a parlare più dei numeri di quello che sta succedendo nella lotta contro la pandemia. Nessuna perdita di tempo sulle protezioni, già pronte 50 aziende. Lo sapete in queste settimane si è parlato molto della mancanza dei dispositivi sanitari, ventilatori, le mascherine. Alcune aziende sono state molto rapide a convertire proprio la loro produzione. E allora vediamo che cosa dice Brusaferro, che vi ricordo è la guida dell'Istituto Superiore di Sanità. Dice non è vero che sulle mascherine stiamo perdendo tempo. Abbiamo appena dato il via libera alla commercializzazione di un modello proposto da un'azienda del Nord Italia. E così faremo non appena avremo la certezza che siano prodotti con i requisiti indispensabili. Dice a che punto siete? Gli ha chiesto Margherita De Bacche che l'ho intervistato. Noi ci occupiamo di autorizzare le mascherine chirurgiche prodotte da aziende che si sono riconvertite usufruendo del decreto Cura Italia. Parliamo di dispositivi medici, non di modelli che possono essere indossati dalla popolazione e che non hanno bisogno di questo passaggio come prevede l'articolo 16 della stessa normativa. Anche quelle hanno filtri ma è ben diverso dover proteggere gli operatori sanitari. Dunque le mascherine che trattiamo noi devono rispondere a certi requisiti di sicurezza definiti a livelli internazionali. Ad esempio la capacità di filtraggio di microorganismi come batteri e virus che dovrebbe essere pari al 98%. E quante domande avete ricevuto? Abbiamo già autorizzato 50 aziende a produrre in attesa che dopo averci inviato un'autocertificazione ci consegnino la certificazione completa che dimostri il rispetto dei requisiti di standard richiesti. Solo quando ci arrivano questi elementi diamo il via libera all'autorizzazione al commercio e lo facciamo in poche ore. Così è brusaferro. E allora vediamo però anche un'altra intervista. In questo caso è sempre sul Corriere della Sera, la trovate a pagina 11. Andrea Crisanti è il virologo che ha promosso i tamponi diffusi in Veneto. Il firma un nuovo studio con El Ferguson, l'uomo che ha fatto cambiare idea al premier inglese Boris Johnson. Vi ricordate che in Gran Bretagna c'era un certo scetticismo all'inizio prima di prendere certe misure e adesso il premier Boris Johnson è ancora in quarantena spontanea a Downing Street nella sede del governo. Allora vediamo il professor Crisanti intervistato da Andrea Pasqualetto. Dice il professor Crisanti, dopo settimane di chiusura le mascherine in casa potrebbero sembrare inutili. Viene da pensare che se non si è stati ancora contagiati il pericolo è scampato. E allora così risponde. No, non è così. I casi si sono accumulati, le persone non si ammalano tutte nello stesso momento. Noi vediamo una progressione in ospedale. Arrivano a grappoli interi nuclei familiari. Questo significa che se non si sta attenti le nostre case possono trasformarsi in tanti piccoli focolai di contagio. Diciamo che in questo momento sono più protetti i single. Sarebbe comunque opportuno accompagnare la misura con un'opera serie di informazione. Non è così semplice, e lo riconosce, difendersi da un'infezione. Dice, al di là di guanti e mascherine, come se ne esce? Ci vuole un'azione decisa. Sarebbe utile andare nelle abitazioni a fare i tamponi, quantomeno a tutte le persone che hanno accusato sintomi non gravi, controllare poi i familiari e chi è entrato in contatto con i soggetti contagiati. Non solo. Sarebbe molto utile trasferire tutti i positivi in strutture ad hoc. Naturalmente parlo delle persone che non richiedono un ricovero ospedaliero. Così Andrea Crisanti. Andiamo a vedere però ancora altre notizie. Ci riferiamo in questo caso a come sarà il dopo quando supereremo, perché certamente supereremo questa situazione di emergenza. Allora, lavoro spostamenti, tempo libero, ecco come sarà la nuova vita a distanza. Proviamo a immaginarlo naturalmente. Smart working e sicurezza. In sede, presenze ridotte al minimo. E poi sotto, bar e ristoranti, mascherina e camerieri e due metri fra i tavoli. Questo per rispettare la distanza di sicurezza. Per quanto riguarda i trasporti, sedili alternati e controlli sul numero dei passeggeri. Cinema, stadi e convegni. Il nodo delle file all'ingresso bisognerà risolverlo. Anche qui bisognerà distanziare e scaglionare gli ingressi naturalmente. Così come nei negozi. Lo vedete? Si immagina ingressi scaglionati in base alla metratura. Questo potrebbe essere uno scenario che ci aspetta nella cosiddetta fase 2. Cioè quella di un allentamento parziale delle misure che poi dovrebbe, come dire, essere precedente alla cosiddetta fase 3. Alla fase 3, scusate. Quella di una ripresa della normalità. Vi segnalo, e così poi lasciamo il Corriere della Sera, anche l'appello di ieri, il discorso, il messaggio, video del Papa. Fate un gesto di tenerezza per chi soffre. Ecco, lo vedete proprio Papa Francesco rivolgersi con questo messaggio video. E allora, andiamo a vedere altri giornali. Adesso andiamo ad approfondire con la stampa. Pagina 2 e 3. C'è un'intervista al Presidente di Confindustria a Boccio, perché naturalmente si deve guardare anche alla dopo. E allora, si parla di economia di guerra, e gli dice Paolo Baroni che lo ha intervistato. Termini forse abusato. L'impatto del coronavirus sulla produzione e il lavoro è da economia di guerra. Su questo non c'è dubbio. Diversi fenomeni, stesse conseguenze del dopoguerra. Dobbiamo mutuare lo spirito. Se vogliamo combattere il virus, difendere e ricostruire i fondamentali economici del Paese. Voi, come anche le banche, chiedete al Governo di non lesinare sulle garanzie pubbliche. Dice, gli Stati usciranno tutti con più debito pubblico. La parte incrementale del maggior debito dovrà essere pagata con scadenze lunghe, fino a 15 anni. E allora, proprio a proposito di economia di guerra. Di economia di guerra ne parla anche Urbano Cairo, che appunto è l'editore del Corriere della Sera e anche della Sette. Economia di guerra per ripartire in sicurezza. La prima mossa da fare è semplificare il sistema. E allora, Augusto Mizzolini, che lo ha intervistato, proprio dice si può fare tutto, ma non si può nascondere che l'emergenza ha fatto avvenire a galla gli handicap del sistema Italia. E allora, Cairo dice, visto che siamo in un'economia di guerra, la prima cosa che dovrebbe fare il Governo è un decreto per la semplificazione, semplificare tutto, per cui quello che si decide si attua subito. Poi a fine emergenza si deciderà quali passaggi burocratici vanno introdotti e quali no. Così Urbano Cairo, intervistato dal giornale. Allora, sono le 7.20.48, ho preso qualche secondo in più a Paolo Sottocorona e gli do subito la linea per le previsioni del tempo. Sì, buongiorno. Questa è la situazione delle piogge, che praticamente non ci sono, previste per la prima parte della giornata di oggi. Quelle debolissime riguardano Sicilia e Calabria e poi c'è qualcosa che comincia ad affacciarsi sulle zone alpine, ma sono quantità veramente bassissime. Nella seconda parte della giornata di oggi resta questa situazione, forse sulla Sicilia meridionale, ma andiamo veramente, come si dice, a cercare le cose con l'anternino. Qualche precipitazione appena moderata. E restano le debolissime piogge, soprattutto sulle zone alpine, forse neanche prealpine. Vediamo tutta la giornata, tutta la giornata di domani, ancora queste zone, vedete, isolatissime, anche le piogge deboli, un pochino più organizzate, sembrano queste sull'arco alpino occidentale. Perché vedete, la banda colorata è un po' più continua, non è a, diciamo, appunti, ma parliamo sempre di quantità molto basse. E poi vediamo anche la giornata di lunedì, in cui questa situazione, situazione, insomma, è già dire troppo alpina, tende anche a disperdersi un po'. Invece al sud ci sono fenomeni isolatamente anche moderate. Vedete, vanno proprio a macchia, sembra proprio un problema, un fattore di instabilità del pomeriggio. E qualche debole pioggia risale anche verso l'Appennino centrale, sul basso Tirreno. Sono sempre cose molto isolate. Le temperature di questa mattina, le minime, sempre in leggerissimo aumento, però piano piano, vedete che sulle isole maggiori qualche zona ripassa al giallo, cioè temperature sopra i 10 gradi. Se no, insomma, qualche piccolo recupero sicuramente c'è stato. Per quello che riguarda i mari, ieri, vi avevo detto, insomma, tenderanno a calmarsi, ancora non si calmano, perché quelli più settentrionali sono abbastanza tranquilli, è vero, i mari centrali localmente sono mossi, ma soprattutto lo Ionio, a largo, ma neanche tanto, delle coste di Calabria e Sicilia, compare il rosso e il giallo, che corrispondono a mari agitati o molto agitati, sono venti intorno nord-est, quindi venti piuttosto forti, molto ondoso, sicuramente marcato. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale. A più tardi. Grazie. 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 Grazie.